ciao bella gente benvenuti al mio canale oggi voglio parlarvi dell'occhiaia e dell'esperienza che ho avuto io nella mia vita dunque io ho sofferto di occhiaie da sempre da proprio da sempre ho provato di tutto provato delle creme del più economica al più cara e non ho avuto tanta soddisfazione comunque le creme che sto utilizzando in questo momento sono sono tre dunque sto utilizzando la crema di mary kay il contorno occhi la sto usando perché ho avuto un periodo un'irritazione il contorno occhi parlo del mese scorso un mese e mezzo fa e niente lei mi ha consigliato questa crema la stavo utilizzando infatti non non irritava idratante è un buon prodotto però per l'occhiaia non serve niente e avevo preso questa crema qua che è un pacchetto da due di siderma e che me l'ha consigliato è un medico mi ha detto che comunque questa crema funziona per tante persone io sinceramente per me non ho visto sto gran gran risultato e quindi comunque devo finirle vediamo più avanti come va e la maschera un patch che funziona veramente bene e da soddisfazione nel senso se volete uscire avete una serata particolare per idratare il contorno occhi e schiarirlo un pochino dunque la patch di shiseido che veramente funziona benissimo io la uso solamente in casi estremi da una serata particolare un'uscita è la uso solo che è abbastanza cara è un investimento però io per la fortuna mia che comunque sto qua io vivo a valencia e qua ci sono dei negozi come druni e primark probabilmente potete ordinare anche online costa poco costa praticamente la metà c'è nel senso questa qua la potete trovare costa 71 euro 71 72 euro dipende qua in italia non lo so io credo che costa qualcosina di più però non lo so comunque qua ci sono fanno tantissimi sconti se ne prendi due hai sconto del 50 per cento quindi praticamente la paga 35 37 euro io ne avevo presi due pacchi ne ho pagati tutti tutti e due 70 e niente ce l'ho da un sacco di tempo li uso una volta ogni tanto e parliamo torniamo a noi e parliamo della maschera che ho scoperto perché io sono una che prova sperimenta tantissimo con tanti prodotti e dunque io ho provato ho trovato questa maschera che funziona veramente bene l'ho provata per un po e per cui mi è venuta l'idea di di farvi vedere farvi usare questa maschera che funziona veramente bene dunque e se lo miele limone e menta dunque la menta se non lo trovate ho trovato le foglie di menta proprio fresche se noi ho utilizzato l'olio essenziale di menta perché non ce l'avevo e dunque tritare tutto e io ho usato due fette tre fette di cetriolo e mi è uscito questo liquido qua che io l'ho messo dentro questa bucetta che ci avevo che avevo finito e la uso tutti i giorni una maschera la usi per dieci minuti dopodiché la lapida e poi dopo metti la tua crema al tuo trattamento giornaliero o serale io la uso durante il mattino quando mi sveglio altre persone dipende se volete usarla la sera non è un problema e niente funziona benissimo e ti dà una soddisfazione il risultato lo vedete nell'immediato comunque per qualsiasi altra informazione per altre maschere altre richieste mi scrivete sotto io vi scrivo gli ingredienti vi scrivo anche vi mando anche le foto di come l'ho come l'ho fatta e ragazze è stato un piacere spero che mi mettete mi piace sotto e al prossimo video ciao belli